In occasione della giornata mondiale del rifugiato, lo Sprar di Teramo ha aperto le sue porte alla cittadinanza. Un'occasione per conoscere da vicino rifugiati accolti, il lavoro degli operatori e per capire il funzionamento dei progetti di accoglienza. Attraverso il confronto e il dialogo sono stati resi noti i numeri dell'accoglienza, i percorsi di inclusione che si realizzano, le attività che vengono programmate e che quotidianamente gli accolti svolgono. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato, quindi festeggiamo questo evento con tutta la cittadinanza di Teramo. Il modo migliore è quello di aprire le porte, quindi far conoscere il nostro progetto che è poi il progetto del Comune di Teramo, quindi è il progetto di tutti noi. Si parla tanto di Sprar, ma quanto lo si conosce oggi potrebbe essere l'occasione giusta. Noi diciamo che facciamo un'accoglienza a tutto campo, a tutto tondo, quindi passiamo dall'accoglienza sul piano legale e quindi assistenza legale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e tutto quanto quello che riguarda un po' è un piccolo sistema di welfare che si concatena nel welfare locale della città. Ad oggi gli accolti sono 78, il progetto è per 100 persone. Noi garantiamo attraverso la nostra scuola interna 10 ore di italiano di ogni beneficiario settimanalmente. Dopodiché, grazie al supporto di altri enti del territorio come il CPA e altre scuole di formazione, approfondiamo il discorso dell'apprendimento della lingua, quindi sopportando nel conseguimento dei livelli A1, A2, B1, B2, c'è chi frequenta la licenza media, chi addirittura fa il biennio superiore e chi va alle superiori. C'è anche una campagna di sensibilizzazione denominata Io accolgo? Sì, diciamo che come Sprar noi abbiamo sostenuto questa campagna che è promossa da molteplici istituzioni di tutto il territorio nazionale, proprio come una forma di protesta e di solidarizzazione nei confronti dei migranti che comunque arrivano. Oltre alla campagna Io accolgo abbiamo anche sostenuto la campagna With Refugees dell'UNHCR, una campagna che va avanti da anni. Invito tutti quanti a partecipare, saremo qui da adesso fino alle 17, quindi c'è la possibilità di venirci a trovare e conoscere i nostri ragazzi, i ragazzi di Teramo.